Ragazzi una notizia veloce per quanto riguarda Pokémon Spada e Scudo, ossia come ottenere Zassian e Zamazenta in versione Shiny. Vi ricordo che questo è un evento limitato che dura dal 22 ottobre, ossia da oggi, fino al 18 novembre, giorno che precede l'uscita dei remake di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Per ottenere i due leggendari cromatici non bisognerà far altro che registrarsi nel sito di GameStop e successivamente, tramite il link che vi lascerò in descrizione, richiedere i codici che vi arriveranno entro 10 giorni nella vostra casella e-mail. Attenzione però perché dovrete utilizzare lo stesso indirizzo e-mail sia quando vi registrate il sito, sia quando andrete a richiedere il codice, altrimenti non vi arriverà. Vi ricordo inoltre che Zamazenta Shiny sarà ottenibile solamente in Pokémon Spada e Zassian solamente in Pokémon Scudo, anche se poi ovviamente saranno scambiabili. Per scaricarli bisognerà semplicemente andare nella voce Donno Segreto e poi registrare il codice e attendere che il Pokémon vi arrivi. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un like e un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto! Un saluto!